Allora, oh ciao ragazzi come state? Tutto bene? Io benissimo Allora sto studiando, sto facendo due esercizi di inglese giusto per cazzeggiare ho voluto anche mettermi così 6 iscritti e 238 visualizzazioni Un traguardo che non pensavo arrivassi così in fretta 200 visualizzazioni in quanto due mesi di video e saranno 10 video che ho messo 10, 11, 12, una quindicina Ma non di più, io vi ringrazio tantissimo di tutto il supporto che mi state dando Intendo due le visualizzazioni però già sei iscritti è un bel traguardo Allora, l'altro canale, già si è arrivato a 28 iscritti, anche lì non pensavo che arrivassi così in alto E per sei mesi non potrò fare video, penso che farò dei video su quell'altro però Non lo so, forse potrei dire, ehi guardate c'è quest'altro canale MMMRPC, in rischio, scrivetemi anche la Ma Ma Allora, no Put, rubisce, rubisce In the bins Vabbè Don't Don't Questo è Don't Swim Che c'è? E don't Enter here Perfetto Don't enter Ah ragazzi, una cosa vi volevo dire Ma Voi che usate il reflector, eh? Se lo usate Potete dire Perché? Se registro il reflector con l'iPhone Lag E se registro il reflector sull'iPad Cioè, per farvi capire, se registro l'iPad Non lag Se registro l'iPhone Lag Eppure assai, cioè va a 8 fps E la miseria La miseria è infame Wow Ok, basta che c'è gioco Ok, basta che c'è gioco Ok, basta che c'è gioco